salve da michele expert quello che vedete sono i miei regali di natale veramente sono arrivati ritardo sono è un regalo che poi sono due ma è un regalo è veramente un regalo perché io non l'ho comprato io e né tanto meno me l'hanno regalati familiari o conoscenti è una ditta conosciuta in un grande marchio si chiama retevis o retevis che hanno proprio diciamo così sono fiore d'occhiello per la costruzione di radio trasmittenti e io voglio ricordare che diversi sponsor mi stanno chiamando da tempo sia per pezzi di ricambio sia per roba di fertilizzanti ma non sempre accetto nelle offerte le tanto meno i regali che mi possono fare io scelgo solamente quello che penso sia utile per me e specialmente se sia di qualità anche per gli altri che possa essere utile ecco quindi le scelte quando accetto qualche cosa mi devono convincere ovviamente io prima di accettare una loro proposta di sponsorizzazione ho visto bene molte recensioni di questi di queste radio e lo trovate veramente molto molto intelligenti adesso io non farò un video adesso devo preparare bene anche in campagna poi ci sarà un video completo che per fare una recensione dando quello che secondo me è il potenziale di questi due radio si presentano con due custodi vede sono attrezzate col cavo usubi questo per la ricarica c'è anche il suo caricatore anche la presa volendo si possono caricare anche con la presa e poi sono anche vedete le cuffie il sistema bluetooth sono dei veri auricolari con la fine che si possono utilizzare e anche la cuffietta vedete auricolare la stessa cosa da questa parte sono due ovviamente ma se almeno due volendo sono anche fino a 45 queste radio si apprestano bene nei ristoranti i giardini nell'agricoltura nella ristorazione negli abberghi ovviamente servono per comunicare senza avere la connessione internet tra l'altro quando si va in sila a volte neanche c'è la linea andare in due avere una radio del genere ti possa dalla vita che ci sono delle frequenze che si possono collegare poi altre radio io sono stato sempre un po appassionato di queste tecnologie da un po di tempo l'ho messo un po da parte ma hanno volutato il mio canale adatto alla sponsorizzazione queste arriva dall'olanda mi hanno chiesto di fare un video ci ho pensato un po perché è la prima volta che io sponsorizzo qualche cosa le offerte sono stata meno una quindicina fino a oggi questa è la prima volta che ho accettato quindi non accetto tutto di volta in volta poi farò vedere come funzionano come tutte le funzioni che ci sono e anche sono ci sono anche le istruzioni vedete l'istruzione può essere che non siano in italiano ma meno in inglese e specialmente il prezzo che costano poi farò vedere il link dove poterli acquistare acquistare ovviamente nessuno vedrà nessuna pressione io consiglio faccio una recensione tanto quello che ha netto il potenziale fiume restante che mi devo anche preparare un po per capire meglio questa tecnologia poi ci sarà un video dove potrete poi in qualche modo riuscire a capire meglio la potenzialità di queste due radio che sono di fascia professionale non sono giocatori non sono quelle che trovate in giro ma sono vere viciotrasmittenti e quindi si apprestano veramente a essere molto affidabile e chi regala anche il mio lavoro duro che durato 12 anni però sono avere degli sponsor che ti offrono in regalo per avere una sponsorizzazione vuol dire che qualche cosa abbiamo pure fatto in questi anni altrimenti sembrava che questi miliani sarebbero stati poi fatti tanto per fare i frutti si raccolgono fermo restando che ripeto io tengo le mie cose il mio canale è quello che più naturale possibile non sempre accetto fertilizzanti non è sempre certo tutto quindi sappiate che da parte di me c'è sempre l'onestà e non mi voglio riempire la casa di oggetti che magari non mi potrebbero neanche servire e magari che mi siano anche utili per chi mi segue ecco non farò mai non darò mai fertilizzanti fossero naturali che non mi convincono quindi ci deve essere una convinzione sicura un efficace altrimenti io non eccetera o mai questo caso ho valutato queste radio possibili anche pratica della del cellulare perché ripeto sono praticissimo che se nel ristorante ce ne possono essere anche i kit di 5 6 uguali e quindi si apprestano per certi circuiti per esempio all'acqua park in reception sono molto utili questi radio tra l'altro si sentono molto bene sono scariche devo caricare ci sentiamo nelle prossime occasioni grazie a tutti grazie a tutti